Intanto ieri la Commissione Speciale d'Inchiesta su Bussi ha cominciato a trattare un aspetto molto importante, era una delega precisa del Consiglio regionale, che è l'aspetto che riguarda la salute, la salute naturalmente del nostro ambiente, la salute naturalmente dei cittadini che si trovano a Valle di Bussi, quindi dieci comuni, compreso anche la città di Pescara. Le audizioni sono state ricche ed importanti, a cominciare da quelle del direttore, del dottor Mascitelli, del direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale, che ha illustrato gli studi che sono stati condotti tra il 2004 e il 2013, che hanno rilevato addirittura in alcuni casi il 33% di tumori in più rispetto alla media abruzzese. Ma dal dottor Mascitelli è arrivata anche la richiesta, l'impulso che la Commissione farà proprio, di un nuovo studio multicentrico con la ASL, con l'ARTA e con l'Istituto Superiore di Sanità, che pure sentiremo in questa Commissione d'inchiesta, per fotografare ancora all'attualità la situazione che riguarda proprio l'aspetto della salute. Sempre dell'aspetto della salute si è occupato anche l'Istituto Zooprofilattico, che abbiamo sentito ieri nella persona della dottoressa Carla Giansante, che è intervenuto per uno studio che loro hanno condotto sull'ecosistema fluviale, dividendo il fiume in quattro tratti, due a Monte di Bussi e due a Valle, e rilevando come tanto inquinamento ci sia stato rilevato anche nelle trote e in altri pesci di questo fiume. E ancora naturalmente le audizioni che pure ci sono state, che hanno riguardato praticamente il professor Fausto Croce, che è stato consulente della procura di Pescara nel 2008 per il sito di Piano d'Orta, sito allora sotto sequestro di 26.000 metri quadri, in cui sono stati individuati circa 100.000 metri cubi di rifiuti, quindi una quantità enorme, rifiuti collegati alle ceneri di Pirite, quindi al materiale che veniva utilizzata dalla ex Monte Catini tra il 1904 e il 1964, in questi 60 anni. Rifiuti che naturalmente inquinano anche le falde, che percorrono il sito di Piano d'Orta da ovest verso est, che entrano sostanzialmente sane e invece escono inquinate dagli stessi materiali. E poi ieri è stata anche l'occasione per regalare ai commissari questo libro, Bussi e la grande chimica in Abruzzo, perché chi studia e valuta questa commissione deve conoscere che l'insediamento industriale di Bussi e di Piano d'Orta rappresentò per il nostro Abruzzo un evento veramente molto importante e chi è chiamato oggi a valutare in questa commissione di inchiesta non può fare a meno di conoscere un po' la storia del lavoro e la storia industriale di questi siti.